Bene amici di Non Solo Mare, ecco, sempre da Ustica con il C-Club, in compagnia siamo venuti a trovare il comandante della Guardia Costera, Paolo Campodonico, che ci ha accolto proprio ieri, siamo venuti arrivando da Palermo con questa spedizione, questi 15 battelli, diciamo, pneumatici, gommoni, da Diporto. Una bella iniziativa che ha permesso a tante persone di fare quello che normalmente non si può fare, cioè abbiamo superato quella famosa soglia delle 12 miglia, ricordiamo sono circa 35 le miglia che separano Palermo da Ustica, quindi saremo un po' fuori dai parametri. Sono iniziative ovviamente autorizzate, seguite direttamente dalla Guardia Costiera, da tutte le istituzioni che devono poi sono preposte alla sicurezza in mare. Sì, in effetti voi siete stati autorizzati dal capo del compartimento di Palermo e noi vi abbiamo accolto con piacere, abbiamo avuto la possibilità di fare quello che è il nostro piacere e dovere, il nostro servizio, essere al servizio dell'utenza e soprattutto tenere in considerazione una regola fondamentale che per noi è un principio, la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. A tal proposito, visto che voi siete diportisti, non posso fare a meno che citare i cardini essenziali normativi che sono il decreto legislativo del 171 del 2005 e poi il cosiddetto codice della nautica da diporto e poi quel regolamento del 146 del 2008. Parliamo noi di disciplina, di regole, a volte non li teniamo in considerazione, ma sono importanti a sostegno del nostro aspetto e della nostra attività ludica. È fondamentale dare delle raccomandazioni, anche perché la figura della Guardia Costiera deve essere quella di avvicinarsi, seguire e anche prevenire. Educare anche un pochettino il diportista. Sicuramente questo. Allora, in particolare, noi notiamo che i diportisti effettuano delle attività non legittime, non legali e quindi siamo costanti a volte ad avvisarli, ma soprattutto ad agire in qualità di polizia giudiziaria, quindi eleviamo dei verbali. E lì vedo la Guardia Costiera come il nemico che mi fa la multa, ma in realtà siamo in mare e come dice lei, le regole che vanno rispettate servono per la sicurezza propria, anzitutto dell'equipaggio, poi di chi, ovviamente il mare lo goda anche lui e quindi altre imbarcazioni, poi ci sono tutta una serie di cose, anche il territorio stesso che deve essere preservato, diciamo, vissuto e goduto da chi lo raggiunge, come in questo caso Ustica, ma rispettando delle regole che altrimenti questo territorio non rimarrebbe quello che noi stiamo vedendo. Io vi do una chicca e questo può essere utile al mondo dell'ago monautica. Cosa succede spesso? Spesso succede che quando noi facciamo i controlli a bordo non possiedono l'assicurazione e questo è contro terzi e questo è fondamentale per garantire noi e gli altri. Spesso ormeggiano senza avere l'autorizzazione dell'autorità marittima e navigano nella fascia, che è perfetto, come dice lei, dottor Piras, è una fascia di mare riservata alla balneazione. Poi spesso non hanno i documenti per chi lascia a casa e che non sono conformi. Quindi ricordate queste buone norme, queste raccomandazioni. Ora noi ci troviamo qui in una riserva marina. Questa riserva è stata istituita nel 1986 con decreto ministeriale e tuttora c'è un'ordinanza. Questa ordinanza è stata emessa dal vecchio sindaco ex sindaco in carica Aldo Messina. Tuttora il sindaco è Attilio, è Attilio Licciardi, che è molto disponibile, è volenteroso per attivare tutte le novità che sono sicuramente utili a mantenere, a fare anche risorgere questa riserva marina. All'interno ci sono dei diving sender. Questi diving sender, centri di immersione, sono delle guire vere e proprie, fanno in modo di poter vedere il mondo sommerso con l'ausilio e l'aiuto di queste persone che sono esperte. In sicurezza e poi andando un po' quasi a colpo sicuro, perché loro ovviamente qua conoscono ogni angolo dell'isola e quindi se uno desidera vedere una specialità di pesce piuttosto che un'altra tipologia, loro sanno esattamente più o meno dove trovare poi tutto quello che è la bellezza, insomma, di quel mondo sommerso di cui si parlava. Sì, si ha toccato il punto centrale. Questa aria marina protetta è divisa in tre zone, zona A, B e C. La A assolutamente non si può pescare, non si può effettuare la balneazione nella navigazione, tranne in due calette, due calette che sono eccezionali. Qui ci sono delle specie ittiche meravigliose, la cernia è una famosissima, ce ne sono diversi e tantissimi esemplari. C'è una protezione e tutela da parte della Guardia Costiera, qui il nostro insediamento che è la delegazione di speggio di Ustica. Lo facciamo con tutta la nostra professionalità, ma soprattutto ci mettiamo tanto cuore. A tal proposito, se parlo di cuore, non posso fare almeno che parlare della vostra manifestazione, che è stata spinta sicuramente dal cuore, ed è la SEA Club. Questa SEA Club, devo dire, che si è presentata in punta di piedi, ma con grande animo e rispetto delle norme. Ha osservato tutte le disposizioni impartite dall'autorizzazione del 113. Devo dire che al di là, adesso abbiamo parlato fin tolpo di norme, parliamo di cose un po' più... Il piacere di vivere il mare. Allora, io ho notato, vorrei evidenziare la solidarietà che ho notato fra di voi. La coesione, l'unione, la condivisione e questa formazione nautica, attenzione, questa professionalità. Perché voi accostate le persone alla nautica, ma state attenti, ecco, ritorniamo sempre lì, alla disciplina, alle regole. Ma il vostro obiettivo a questo punto, io devo dire, che non è soltanto l'obiettivo di essere tre giorni piacevoli a usire. Perfetto, ludico, ma tutt'altro. E' educare alla socializzazione. E' sicuramente al rispetto. E questo è quello che ha bisogno oggi, nel 2013, la nostra società italiana. Quindi, parlando di persone, vorrei ringraziare il presidente Enza Abila, assolutamente, il collaboratore e coordinatore del dottor Giardina Domenico, e poi lei, assolutamente, il dottor Piras, per questo momento di approfondimento utile per la nautica di Porto. Ma abbiamo toccato dei principi fondamentali, che sono quelli della socializzazione, che oggigiorno sono necessari in questo mondo un po' preso da tanti attriti e da altro. Noi ringraziamo voi per tutta l'accoglienza che ci avete riservato, e rinnoviamo a tutti gli amici di Non Solo Mare, che sono amici che poi frequentano il mare, e lo vivono ogni giorno, che se si è a posto, se si seguono le regole, se si rispettano le regole, sia a tutto quello che la Guardia Costiera diventa amica, diventa un punto di riferimento, perché nel momento di bisogno sappiamo che voi ci siete sempre, in qualsiasi condizione di mare, noi sappiamo che la Guardia Costiera, col 15-30, in qualche modo ti viene a prendere. E questa dovrebbe essere la figura. Certo, bisogna anche rispettare le regole, come dicevamo prima, perché altrimenti si mette a rischio anche la vita stessa di chi poi deve venire a soccorrere l'imbarcazione in difficoltà, perché spesso non tengono conto che il loro problema, ma il nostro problema in mezzo al mare può determinare poi ovviamente un obbligo, perché poi moralmente voi non vi sentite di dire non avevi la dotazione di bordo, rimani là, voi andate a prendere le persone che hanno bisogno in qualsiasi condizione. Questo penso che tutti lo devono riconoscere, ricordiamo sempre comunque che col 15-30, in difficoltà, la Guardia Costiera vi risponde, e non è quella figura che dicevamo prima, che viene per farvi la multa, viene a salvarvi la vita. Cerchiamo di evitare ovviamente, cerchiamo di rimanere e di rispettare le regole, perché questo venga soltanto nel momento in cui è un imprevisto che nessuno poteva prevedere e non perché negligenza ci siamo presentati, non avendo quello che serve per affrontare certe navigazioni come quelle che è stata fatta in questo caso. Assolutamente, e un saluto a tutti. Grazie comandante. Buona giornata. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.